Cari bambini, questo è il nostro ultimo appuntamento attraverso il video. Dico attraverso il video perché credo, spero, voglio che sia possibile rivederci magari in biblioteca. Presto riapriranno. No, ce lo auguriamo tutti perché le storie racchiuse lì dentro sono tantissime e con me ne avete viste solo poche. Questa volta ho scelto per voi una storia che in italiano non è ancora stata tradotta, ma questo autore francese, io l'ho trovato, questa sua storia, solo in spagnolo. Non vi preoccupate, ve la racconto in italiano. Ci tenevo proprio, è una bellissima storia. Quindi adesso, uno, due, tre, bocca chiusa, adesso è... Oggi vi leggerò tutti meno uno. In un giardino cresceva una pianta di piselli. Sembravano tutti uguali, vivevano vicino tranquillamente. Tutti meno uno. Uno che non voleva essere come gli altri. Infatti, un giorno prese questa recisione, saltò fuori dal baccello e cominciò a chiedersi, ma io a chi posso assomigliare? A una zucca? A una carota? A una cipolla? E in quel momento l'incontrò un pavone reale. Quel pisello esclamò, Oh, come mi piacerebbe assomigliare a questo volatile, alla sua coda che sembra un gran ramo di fiori. E senza pensarci, gli prese una piuma, gliela staccò e se la legò in vita con una cintura. Subito una tigre arrivò a sorpresa e iniziò a inseguire il pavone. A vedere la scena, il pisello pensò, Ma come mi piacerebbe essere come quella belva? È coraggiosa e ha una pelliccia molto elegante. A quel punto non innuggiò, prese una matita e si ricoprì di righe. E si sentì subito bello e anche audace. Un elefante arrivò col suo barrito fortissimo e la tigre scappò. Il pisello pensò, Mmm, come mi piacerebbe essere come questo animale! A quel naso è così grande e lo rende imponente! Quindi prese subito un filo d'erba e si fece una proboscide. Così sentì proprio che incuteva rispetto. Ho raccolto il meglio dal pavone reale, dalla tigre e dall'elefante, pensò con molto orgoglio. A quel punto pensò di tornare a casa. A vederlo arrivare, tutti gli altri piselli cominciarono a ridere e a fare ogni genere di scherzo. Lui in effetti non è che ci rimassi proprio male. Le disse, Sono un seme strano, però sono sempre un seme. Allora, come tutti i semi, scavò un buco nella terra e si accucciò con la sua piume, le sue righe e la sua proboscide. passò l'autunno, passò l'inverno e la primavera, finché un giorno la terra celebrò la nascita di una nuova pianta, unica e singolare, piena di piselli, tutti diversi e tutti felici. Eccoci! Perché ho scelto questa storia per salutarvi? Perché io non vi ho mai visti, ma vi immagino proprio così, tutti diversi e tutti felici. Adesso però l'abbraccio ve lo voglio dare io, grande, 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 grande! Una mano su una spalla, una mano sull'altra, stringiamo forte, forte l'abbraccio di tutti i bibliotecari e le bibliotecarie e il mio! Forte! Per voi! Grazie! una buona pol bạn La buona pregiunga P sh willingly Per voi! Per vraities�